Certo che sì. Per domattina ripeteremo quanto è stato fatto ad Alba in memoria e in ricordo di Pietro Ferrero. Per domani pomeriggio, a seconda di quello che accadrà in giornata, spegneremo la musica, cancelleremo la festa, terremo i toni bassi, come è accaduto oggi negli ultimi dieci chilometri di questa sciagurata tappa. Prima di entrare in altri dettagli vorremmo almeno incontrare quella che siamo obbligati a chiamare vedova e il papà. Grazie.